È arrivato il primo gol in maglia bianca azzurra, anche con un pizzico di rabbia perché non riuscivi a inserirti in questa squadra. Primo colpo di testa, gol. Sì, non è che non riuscivo a inserirmi nella squadra, però è stato un gol, un'esultanza di liberazione. Alla fine comunque abbiamo portato a casa tre punti, era importantissimo vincere questa partita per tornare a vincere. Adesso bisogna continuare così. Hai fatto gol di testa, hai fatto la lotta dal punto di vista fisico, ma una delle azioni più belle del primo tempo è stata una tua ripartenza a 70 metri palla al piede. Poi ti è mancato un guizzo alla fine o è stato bravo il loro capitano? Un po' tutte e due, sono arrivato un po' stanco alla conclusione, che poi non ce n'è anche stata perché è stato bravo anche lui e è andata così. L'importanza di questa vittoria, considerato il pareggio del Cesena? Eh, è importantissimo perché noi comunque ci crediamo e abbiamo accorciato intanto. Poi il campionato è ancora lungo, ci sono dieci partite ancora, quindi è tutto aperto. Lo possiamo raccontare con il sorriso perché non è successo nulla, ma l'ultimo minuto del primo tempo su quel calcio d'angolo, la palla stava per entrare nella porta tua? Ah, c'è stato il calcio d'angolo che hanno battuto basso, Pontisso la mezza svirgolata perché gli è schizzata davanti, mi è arrivata sul ginocchio e per fortuna c'era Pompetti che ha salvato la palla. Pompetti ti ha fatto l'assist per il gol dell'1-0 e ti ha salvato l'eventuale... Ma non so se entrava, perché la diretta verso la porta mi era lenta, secondo me c'era anche il portiere. Perfetto, io do l'auricolare a Jacopo Cernigoi per una domanda da studio, un attimino solo, ora vi ascolta Cernigoi. Sì, tanto i complimenti che non sono di prammatica ma assolutamente sinceri, Jacopo per il primo gol con la maglia. C'è un problema con la comunicazione, ecco, quindi abbiamo perso la comunicazione, quindi andiamo noi in diretta in attesa che viene ripristinata la chiamata dallo studio con Cernigoi per chiederti se tu puoi fare anche la seconda punta, perché poco fa abbiamo chiesto ad Auteri, lo ha fatto Fabio Ferraresi da studio, magari in alcune partite se potevi giocare dietro a Ferrari, lo hai mai fatto quel ruolo? Ma ho giocato più volte accanto a una prima punta perché diciamo che sono un po' atipico come prima punta, mi piace muovermi molto e quindi secondo me possiamo convivere. Perfetto, questa è la risposta di Cernigoi, abbiamo ripristinato lo studio, ti ascolta. Tra l'altro, se non vado errato Jacopo, intanto complimenti per il gol, col Seregno giocavi insieme con Cocco lì davanti, no? Sì, sì, infatti ho sempre giocato, cioè sempre, ho fatto annate dove giocavo prima punta con tre attaccanti, appunto prima punta, se no giocavo anche a due. Comunque diciamo così Jacopo, e c'è una parola per una domanda a Fabio Ferraresi, tu sei il classico attaccante che sa giocare con la squadra e per la squadra, che è una cosa molto importante. Fabio? No, vabbè, ci provo. Stasera ha fatto una buona gara e sicuramente ha messo in difficoltà l'allenatore. Io mi ritorno a quello che abbiamo detto poc'anzi, quello che ho chiesto al mister, io credo che tu e Ferrari, ora tu me lo devi confermare in modo obiettivo, chiaramente non perché magari giocando in due è meglio sia per te che per lui, però in modo obiettivo io credo che voi due possiate convivere. Tu quel ruolo dietro la prima punta per caratteristiche lo fai bene, lo potresti fare bene dando anche una mano al centrocampo. Sì, ripeto, io quel ruolo lì da trequartista puro non l'ho mai fatto, ho sempre giocato a due punte e niente, due punte non ho mai fatto il trequartista sinceramente, però se mi chiede il mister di fare questo ruolo qua ci provo.